E vediamo, vediamo come far sì che questa persona in qualche modo si coinvolga con te facendogli capire che stai perdendo interesse, facendogli capire, facendogli percepire che stai in qualche modo perdendo interesse nei suoi confronti. Questo è un fatto importante, è un fatto fondamentale, salutiamo la nostra greenettina a Green Apple, perché diciamo se una persona non ti dà quello che tu vuoi, beh non puoi mantenere attivo l'interesse. Questo vale anche dall'inizio, comunque in generale ci sono delle cose, salutiamo Rosi, che devi prendere in considerazione, che sono molto importanti. Ad esempio è importante, diciamo, definire prima di frequentare in qualche modo una persona, stabilire i tuoi criteri di selezione, perché devi essere tu che seleziona un uomo, quindi devi definire dei criteri di selezione. Cosa vuol dire definire dei criteri di selezione? Beh, fondamentalmente significa che devi imparare a identificare le qualità che cerchi in un uomo. Salutiamo anche Pepe Rosa, Cucina Naturale, iscrivetevi al canale, fa anche rima, Pepe Rosa, Cucina Naturale, iscrivetevi al canale, la nostra Oxy Rosa. Quindi devi determinare dei criteri di selezione se vuoi trovare l'uomo giusto per te, se vuoi trovare l'uomo dei tuoi sogni. Invece molte donne non stabiliscono dei criteri di selezione perché sono spinte dal bisogno. È essenziale sapere, diciamo, cosa stai cercando, cosa ti interessa in un potenziale partner, per riconoscere se questo partner va bene per te. E quindi potrebbe valere la pena di dargli energie, potrebbe valere la pena di dargli, come dire, di dare interesse, oppure non ne vale la pena. È necessario identificare le qualità essenziali che tu desideri in un uomo. Ovviamente possono essere diverse, ma queste qualità ti suggerisco di fare un elenco, come adesso non la vedo presente, come ha fatto la nostra carampa gnocca che ha detto in un video di aver selezionato 32 caratteristiche presenti in un uomo. Beh, questo è un punto fondamentale. Mentre invece la nostra Oxy, anziché l'elenco delle caratteristiche, fa la crostata di fragole, la crostata di fragole. E qua, questa si ingrassa come una zampogna. Allora, è necessario quindi identificare le qualità. Ovviamente potrebbero essere tratti di personalità, potrebbero essere caratteristiche, non so, l'intelligenza, l'umorismo, l'ambizione, la stabilità economica, l'empatia, la fiducia, la pazienza, insomma, tutte caratteristiche che tu vuoi messe lì, messe assieme. Ovviamente puoi determinare quelle cose che non sono negoziabili. Ad esempio, dei valori che per te non sono negoziabili. Se per te la fedeltà non è un valore negoziabile, non appena questo dà una manifestazione, dà una manifestazione di infedeltà fuori dai maroni. E questo è un punto importante. Invece, nel momento in cui tu vieni meno a quelle che sono erose fra l'elenco dell'ingrediente, esatto, non appena vieni meno, diciamo, a quelle che sono i tuoi valori inequivocabili, i tuoi valori, diciamo, non negoziabili, e questo è un punto fondamentale, i valori non negoziabili devi metterceli. Non devi assolutamente cedere. È come dire, non passa lo straniero, no? Vi ricordate la canzone I Fanti, il 24 maggio? Il piave mormorava, calma e placido al passaggio, dei primi Fanti il 24 maggio. Oh, salutiamo la nostra Sissi. Non sappiamo se la nostra Sissi ha slegato finalmente Pippoli, perché io non vedo ancora Pippoli. Credo che ancora Pippoli sia lì, nel suo bondage, dopo i giochi sadomaso che la Pippi ha fatto con Pippoli. Allora, non dovete assolutamente cedere, non dovete assolutamente cedere, diciamo, non dovete assolutamente cedere sugli elementi che sono, diciamo, che costituiscono la base di ciò che per te è improrogabile. Fissa al quadro, sempre lì, fissa al quadro. Quindi, ovviamente, ci va anche un qualcosa, no? Naturalmente l'aspetto fisico è sicuramente importante, ma quindi è basilare. Cioè, fare una selezione a monte, fare una selezione a monte, non a monte nel senso che una volta che ti ha montata, la selezione devi fare la prima. Molte donne dicono, no, facciamo la selezione a monte, ma a monte è essere montata, no? A monte è prima di essere montata. Quindi devi cercare un uomo che condivida i tuoi valori, che condivida, che condivida, diciamo, che condivida le tue scelte fondamentalmente. È molto importante questo. Ovviamente sarebbe buono, non è obbligatorio, ma sarebbe buono che ci siano anche degli interessi condivisi, se tu vuoi una relazione a lungo termine, perché interessi condivisi ci permettono di non dover scendere a compromessi, no? Cioè, ma faccio un esempio, a te piace andare al mare, a me fa schifo, e all'altro, invece, a te piace andare in montagna, a me fa schifo, a te piace andare in città, a me fa schifo, ci fa vedere che cazzo ti piace, stare sul divano, no, vabbè. Però, diciamo, è interessante che ci sia una condivisione fondamentalmente, salutiamo anche Jessica, una condivisione di elementi, questo è un altro punto fondamentale. Nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, fate l'abbonamento al canale, qua costa proprio, diciamo, il feed d'ingresso è meno di un euro, quindi anche i barboni possono farlo, oppure, se volete dare un sostegno al canale, potete fare una donazione al canale. Quindi, gli interessi sono comunque un elemento importante per quanto riguarda poi la compatibilità. non lo so, è ovvio che, come dire, non è che deve essere una roba sovrapponibile, però, è fondamentale, ma soprattutto alcune caratteristiche del carattere, ad esempio, secondo me, devi evitare assolutamente tutte le persone che in qualche modo sono gelose, di evitare assolutamente tutte le persone che in qualche modo sono già sposate con qualcun'altra, perché poi questo sembrerebbe che oggi, diciamo, gli uomini sposati funzionano molto bene, nel senso che attraggono molto, però poi le donne si lamentano, quindi, se ha a che fare con un uomo sposato, basta, basta che non ti lamenti, basta che non ti lamenti. Per riuscire a trovare un uomo di qualità, qualità per te, è importante evitare alcune trappole, fondamentalmente, no? Quindi, la prima trappola, la prima trappola è quella di essere, come possiamo dire, la prima trappola è quella di essere, di venire meno, di accettare che venga in qualche modo oltraggiata la tua dignità, perché se tu lasci che un uomo oltraggi, tra virgolette, la tua dignità, non è che ne avrai dei grossi vantaggi, fa anche rima, se tu lasci che un uomo oltraggi la tua dignità, non ne avrai dei grandi vantaggi, e quindi non devi essere tentata, diciamo, di fare compromessi sulle cose importanti per te. Poi, ovviamente, devi dare un miglioramento a te stessa, devi dare un miglioramento alla tua vita, fondamentalmente. È importante, secondo me, che sviluppi anche delle qualità, comunque, che attraggono un uomo. Ad esempio, secondo me, essere una donna cuciniera è importante, ma devi essere una donna cuciniera a cui piace cucinare, perché se diventi cuciniera, però ti fa schifo cucinare, non ottieni nessun risultato, fondamentalmente. Iscrivetevi al canale Pepe Rosa, cucina naturale, come mangiare senza ingrassare. Ad esempio, una donna cuciniera può essere una validità, ma soprattutto una donna che abbia autostima e sviluppare autostima passa inevitabilmente, no? Per prendersi cura di sé, di se stessi. Quindi, d'altra parte, non devi mai fare un confronto con le altre persone, sempre negativo, sempre deleterio confrontarti con altre persone. Quindi, tu devi confrontarti con te stessa e basta. Questo è un punto fondamentale, non è che devi, perché altrimenti, soprattutto se soffri, diciamo, di comparazione fallimentare, cioè quindi ti coinvolgi su persone che ti fanno sentire inadeguata, che ti fanno sentire sbagliata, che ti fanno sentire non funziona. Anche, ci sono donne poi che si coinvolgono sugli anatemi, no? Quelli che la fanno sentire un po' zoccola. Ti è mai capitato di innamorarti di un uomo che ti ha fatto sentire zoccola? Eh, se sì, è perché, diciamo, in qualche modo hai questo anatema, diciamo, dentro di te che governa, che governa la tua vita. Quindi bisogna avere, invece, fiducia in se stessi, fiducia nelle proprie capacità, fiducia nel proprio benessere. La fiducia in se stessi è un elemento chiave, è un elemento chiave per avere successo, no? Rafforzare la fiducia in se stessi possiamo farlo attraverso, ad esempio, la capacità di somministrarci delle tensioni emozionali. Quindi, anche qua, vedi che bisogna passare attraverso le emozioni. La capacità di gestire le emozioni è importante per evitare che si crei una compressione delle emozioni sulla logica, ma anche una compressione della logica sulle emozioni. Perché quando c'è una compressione della logica sulle emozioni, cioè tu non riesci a gestire le emozioni, vai in crisi praticamente quando le emozioni comprimono la logica, vai in crisi di identità. Perché la nostra parte logica è lo strumento più utile che abbiamo per prendere le decisioni. E se le emozioni lo comprimono, noi non sappiamo in più prendere le decisioni. E quindi cosa vuol dire non sapere più prendere le decisioni? Che deciderai di innamorarti della persona sbagliata. Quando le emozioni sono prevalenti ti innamorerai del figlio di mignotta selezionato. Quante volte ti è capitato di innamorarti del figlio di mignotta selezionato, diciamo, mentre invece hai trascurato la possibilità di incontrare un bravo ragazzo, di incontrare una brava ragazza, di incontrare una persona di valore. Quindi questo devi tenerlo presente è un punto fondamentale. Devi capire che le emozioni non sono logiche, non sono razionali, ma puoi impararle con la logica e con la razionalità. Quindi, quando un uomo in qualche modo diciamo, ti dà meno di quello che tu vuoi, devi fargli capire che la tua mancanza, devi fargli capire che il tuo interesse nei suoi confronti sta diminuendo. e come fai a fargli capire che il tuo interesse nei suoi confronti sta diminuendo? Mettendo te stessa al primo posto, quindi tu devi essere messa al primo posto, devi essere la persona più importante, devi essere la persona che si mette veramente al primo posto. Quindi, analogicamente, salutiamo Crazy Robbie, analogicamente gli farei capire che il tuo interesse nei suoi confronti sta diminuendo, sta scemando perché ti prenderai cura di sé e prendersi cura di sé è fondamentale per attrarre invece un uomo, soprattutto se si tratta di un uomo di qualità, soprattutto se si tratta di un uomo di valore. Ovviamente, devi prenderti cura di te a 360 gradi, quindi anche dell'aspetto fisico è molto importante, diciamo, ovviamente gli uomini di valore sono attratti dalle donne che sono equilibrate emotivamente, tu sei schizzata emotivamente, se sei schizzata emotivamente devi cercare di tranquillizzarti, no? Le donne schizzate, le donne agitate, donna agitata, donna lasciata, fa anche rima, donna agitata, donna lasciata. Le donne sempre nevrotiche, schizofreniche, depresse, insomma, le depresse non sono, però, la donna agitata, donna lasciata, donna rilassata, donna cercata, o scrivetemi, scrivetemele queste che mi piacciono, donna, donna agitata, donna lasciata, donna, donna agitata, donna lasciata, donna rilassata, donna cercata, o qualcosa del genere, così magari faccio uno short, donna agitata, donna lasciata, donna rilassata, donna cercata, che donna agitata, donna schizzata, befana di una carampana, donna agitata, donna lasciata, che schizzata, agitata e schizzata sono sinonimi, befana, quindi questo è un punto molto importante, dobbiamo, 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 diciamo, prendere atto di questa cosa, dobbiamo prendere atto di queste cose, inoltre devi imparare a sviluppare il giusto carisma, il giusto carisma è un'altra caratteristica che devi imparare a sviluppare, il carisma, la leadership, la capacità di attrazione, il carisma è una qualità fondamentale, il carisma è una qualità fondamentale per attrarre, per affascinare un uomo, ma le donne carismatiche quali sono? Beh, quelle che sono a proprio agio col loro corpo, che sono a proprio agio con la loro mente fondamentalmente, ma che l'avevo detto per primo, befana che non sei l'altro, salutiamo Gina Decazza, l'avete elaborato, befana, carampana, allora, quindi, il carisma è una qualità fondamentale, devi imparare a essere a tuo agio con il tuo corpo, questo è un punto molto importante, è un punto fondamentale, essere a proprio agio con il proprio, scusate, è importante essere a proprio agio con il proprio corpo, salutiamo Gina Decazza, quindi mettiti un abbigliamento che ti piaccia, mettiti un abbigliamento che ti faccia sentire femminile, no? la maggior parte delle donne si veste come, diciamo, o da troione, oppure si veste, diciamo, in modo sciallo, in modo sciatto, oppure si veste in modo, in modo, diciamo, come dire, in modo negativo, eccessivamente mascolina, una donna fallica, una donna virago, beh, certo, ti ha conquistato, ma ti ha conquistato a livello logico, non credo che ti abbia conquistato a livello emotivo, perché la conquista emotiva non si ottiene soddisfacendo le, diciamo, le situazioni, fondamentalmente, no? Si ottiene amplificando le emozioni, certo, poi, in una condivisione emotiva, diciamo, in una condivisione logica, ci si può trovare anche una relazione positiva, poi devi mostrare sicurezza in te stessa, devi saper ascoltare, devi mantenere un atteggiamento, un mindset positivo, devi dimostrarti come autentica, non come una, diciamo, che recita, che recita, donna che recita, ad esempio, anche sull'essere, la tua femminilità deve essere uno stile di vita, non che sei, diciamo, sempre, come dire, come dico sempre, vestita, sempre vestita, come quella che vada da mangiare ai polli, e poi ogni tanto ti metti i tacchi, no? I tacchi, devi averli sempre, devono essere parte del tuo abbigliamento, quindi, questo è un po', sono un po' punti fondamentali, d'altra parte, però, devi anche conoscere la tua morfologia, no? che mette in risalto un po' le cose positive che hai, se non hai cose positive, fisicamente, beh, cerca di nascondere quelle negative, devi capire, dovresti imparare a capire qual è la tua morfologia, chi cazzo sei, sei una donna a clissidra, sei una donna a rettangolo, sei una donna a mela, sei una donna a pera, che donna sei? A clissidra, a rettangolo, a mela, a pera, a triangolo rovesciato, insomma, questo, questo, diciamo, è un punto molto importante, no? Perché in funzione della tua, diciamo, della figura geometrica che sei, fisicamente, dovrai trovare anche degli abiti che ti valorizzano, ma tra l'altro anche i colori, eh, comunque, certo che se tu sei pallida e ti metti, che ne so, un colore pallido, sembrerai, o un colore nero, sembrerai mortissia, no? Cioè, una donna pallida, proprio pallida pallida, che si mette un colore nero, sembra una becchina, sembra mortissia, oppure una donna pallida, che si mette un colore, che ne so, creme, sembra, diciamo, un bignè, quindi fa ingrassare, non viene preso in considerazione. Quindi, si chiama, io non è che la conosco tanto, ma avevo fatto anche un video, con una che la faceva, si chiama, eh, armocromia, mi sembra, armocromia, cioè, l'armonia dei colori. È evidente che devi scegliere il colore, che rifletta la tua personalità, ma rifletta anche la tua carnagione. Questa sembra una cazzata, no? Ma, ovviamente, eh, diciamo, è anche molto importante comportarsi, nel modo, cioè, scegliere i colori, nel modo giusto, no? Se hai 60 anni, è inutile che ti vesti come arlecchino, cioè, con tutti questi colori sgargianti, quelli devi mettere una ventenne, no? Diciamo che, compatibilmente con, la tua armocromia, se sei una donna, d'età, e tu sei una donna d'età, devi scegliere, o un colore sul grigio, sul blu, sul, diciamo, sul beige, se la tua carnagione è scura, quindi, evita colori sgargianti, no? Che, a quell'età lì, non vanno bene, a meno che tu non sia la regina Elisabetta, che allora lei, la regina Elisabetta, che anche a 95 anni, si poteva permettere tutto, ma, ma, altrimenti, deve essere un qualcosa di, salutiamo trastullo, deve essere un qualcosa, eh, che può essere, diciamo, se sei grassottella, è consigliabile usare con reti, se hai un paio di tagli in meno, trovi un salumiere, esatto, devi, no, se sei, se sei sovrappeso, dimagrisci, dimagrisci, no? Cioè, dimagrisci sempre, quindi, è molto importante questo, Anche la scelta degli accessori, può aiutare, perché fa tutto parte, di quella che potremmo definire, il linguaggio non verbale, non linguaggio non verbale, poi un linguaggio, eh, che dà importanza alla postura, dà importanza a tante cose, è ovvio che se tu attrai, sarà più difficile, che lui non ti prenda in considerazione, se vieni vista come una sciatta, come una non attraente, tieni presente, che comunque gli uomini, sono anche fondamentalmente visibili, quindi, sono comunque attratti, eh, attratti, diciamo, dagli aspetti visivi, per sedurre, è quindi importante, anche visivamente, che una donna, metta in luce, i propri punti di forza, no? Come dice, il nostro Crazy Robby, se tu hai le cosciottone, diciamo, e metti anche, le calzarete, per dire, cioè, le tue cosce, sembrano un prosciutto di Parma, no? Un prosciutto di Parma, chiuso e pronto, per essere insaccato, quindi, cerca di mettere qualcos'altro, no? Se sei magra, è tutto più facile, ma non devi neanche essere, diciamo, uno stecchino, no? In media, virtus est, insomma, magra, ma non anoressica, insomma, un pezzo di, come si dice, dosso e basta. Quindi, però, migliorare, dobbiamo rafforzare sempre i nostri punti di forza, quindi vanno identificati, devi sapere esattamente quali sono i tuoi punti di forza, sia fisicamente, sia, diciamo, da un punto di vista mentale, no? Anche mentalmente, dovresti svilupparti un po' di cultura, ma anche un po' studiare qualcosa di generale, non è proprio negativo nella vita, fondamentalmente. Questo è un altro punto fondamentale, no? Bisogna evidenziare ciò che di buono abbiamo e cercare di nascondere ciò che di buono non abbiamo, proprio per attrarle, no? Perché è ovvio che un uomo ti cercherà, se sentirà, se sentirà attratto, non perché gli fai pena, non perché, diciamo, tu manifesti bisognosa, no? Perché l'amore non si può pretendere e non si può neanche supplicare. Quindi, poi è anche interessante quando conosci qualche uomo che hai messo in atto tutta una serie di vincoli, cerchi magari di conoscerlo prima, cerchi di conoscerlo prima, diciamo, di, prima magari anche dal vivo, fondamentalmente, Perché oggi molte conoscenze avvengono nel web, nei social, eccetera, eccetera, no? E allora, ovviamente, dov'è che devi fare il primo incontro? Beh, il primo incontro con un uomo che hai conosciuto nei social network dovrebbe avvenire in, deve essere un incontro rapido, veloce, indolore, che non deve avvenire anni dopo il vostro, il vostro incontro, la vostra conoscenza, deve avvenire sempre nel momento giusto. quindi, quindi, i luoghi dove conoscere gli uomini sono tanti e devi scegliere i luoghi in cui ti senti a tuo agio, in cui coltivi interessi personali, magari, anche, potrebbe essere, provare a dire, ma dai, vediamoci in un museo, vediamoci qua, vediamoci là, perché questo è un punto importante, no? Vederlo, vedere anche per testare il suo, mi sono toccato il naso, brava, brava, Grineppo, sì, perché spesso le conoscenze nel web non è che siano il massimo, no? Quindi, prova a testare un uomo anche da questo punto di vista, no? E quindi poi, se devi essere tu che valuti lui, devi metterti tu in posizione giudicante, perché chi giudica domina, chi è giudicato è dominato fondamentalmente, chi è giudicato è dominato, i primi appuntamenti, beh sì, un luogo tranquillo, ma deve essere un qualcosa di veloce, non devi dare l'idea che stai lì ad aspettare per, diciamo, avere la fede al dito fondamentalmente. Poi, devi anche saper creare delle connessioni, no? Quindi, anche tu devi saper fare delle domande aperte, devi saper ascoltare, devi saper farti vedere come una donna di classe interessante. Se tu manifesti queste caratteristiche, vedrai che non capiterà mai che lui non ti cerchi, non capiterà mai che lui non ti voglia, ma capiterà esattamente il contrario, capiterà che sarà lui a cercarti, sarà lui a... E invece, se non ti cerca, per qualche motivo, devi drasticamente diminuire l'interesse nei suoi confronti, devi drasticamente diminuire le tue interazioni, il numero di interazioni, devi farlo scendere, devi farlo diminuire, perché se una persona non dimostra interesse, tu devi dargliene ancora di meno, devi avere un comportamento speculare. Quindi, questo è un po' quello che devi fare per far innamorare un uomo e per evitare che quest'uomo non si metta a complementare, insomma, le tue esigenze. Hai tutte le possibilità di questo mondo, ma devi saperle sfruttare. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video, seguite i miei video,